E' stato aggredito e picchiato selvaggiamente mentre si trovava seduto ad un tavolino. Una brutale passaggio che si è consumato ieri sera attorno alle 22 nella centralissima piazza Guido Monaco. La vittima, un 41enne marocchino, era infatti seduto ad un tavolino assieme a due amici quando è stato improvvisamente avvicinato dall'aggressore appena sceso da un'auto. L'uomo, un 40enne tunisino, si è così accanito contro di lui. Lo ha colpito violentemente prima con pugni e poi con calci al volto e al tronco. Il pestaggio è poi proseguito anche quando la vittima era ormai a terra, inerme. Il tutto di fronte agli occhi increduli di alcuni passanti. L'aggressore, infine, è scappato sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che si sono messi immediatamente alla caccia del responsabile. I militari, grazie anche ad alcune testimonianze, sono così riusciti a rintracciare l'autore del pestaggio. Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate mentre la vittima è stata portata all'ospedale San Donato di Arezzo. Ha riportato lesioni giudicate e guaribili in 30 giorni. Ha rimediato, tra gli altri traumi, anche la frattura di una costola. Alla base del folle gesto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ci sarebbe stato un apprezzamento non gradito da parte della vittima nei confronti della compagna dell'aggressore.